Dopo la situazione di timore causata dall'ennesimo contagio da coronavirus rivelatosi poi falso positivo, in questo caso un uomo di Vallo della Lucania, dipendente dell'ASL, la situazione nel Cilento sembra essersi tranquillizzata definitivamente. La ripartenza procede, già si sta vivendo, con le giuste precauzioni, un assaggio di vita precedente al Covid-19. L'incremento dei casi nel territorio si è stoppato ormai da più di un mese, le poche persone rimaste positive, tre ad Agropoli e una a Casalvelino, sono casi che attendono solo di guarire. Anche nel Vallo di Diano stabile la situazione dopo il caso di ricaduta nel contagio dell'uomo di polla già guarito dal Covid. Screening di massa nel comprensorio che ha portato al grande numero di quasi 10.000 tamponi effettuati con un solo positivo.